cavoli avrei proprio bisogno di qualche cosa di frizzante per dare un po di pepe a questa noiosa vita eppure non ci trovano in... ed eccoci qui in un nuovo paurississimo episodio della paura sono qui con guglielmo eccomi qui ciao che parlerà come avete visto dal titolo dei doppelganger ganger gunger come li volete chiamare voi incredibile sono cose molto interessanti adesso andremo a parlare nel dettaglio e vi spiegheremo e faremo spaventare forse chissà vedete un'immagine molto carina vedete queste persone che si sono fatti la foto in un momento diverso della loro vita e invece no sono tutte persone diverse vabbè gli ultimi forse si possono riconoscere ovviamente questo qui è chiaramente diverso da questo però questi due guardate li guardate sembra pure che non sono gli stessi sono gemelli sono persone sconosciute a quanto pare stessa cosa sotto queste tre donne sono sconosciute non si conoscono nemmeno forse però sono ugualissime cioè tu le volete guardi per strana dice ciao michela e quella dice chi cazzo è michela non sei michela la figlia di maria quella che c'è il panificio e scusa ti ho scambiata per qualcun altro ma questa maria del panificio non la conosco assurdo benito assurdo e per dire un esempio no comunque e questo quindi il doppelganger capito può essere una persona uguale a voi precisa ma voi non lo conoscete non sapete chi è mai vista nella vita vostra però stessi insomma quasi simili aspetti in un modo metafogo ecco vedete quasi simili aspetti e voi direte a minchia sono io deum il demolo lo direte sicuramente alcuni poi tra l'altro alcuni dicono che il doppelganger sia solo un sosia quindi una persona uguale a te però diversa da te altri dicono che il doppelganger invece è più una sorta di alter ego quindi sei sempre tu ma ti cambia solo ciò che cambia la personalità sono concetti diversi però diciamo che insomma ci sono diverse interpretazioni secondo anche dei paesi di delle culture delle religioni anche te insomma l'esoterismo varie cose così in generale comunque nel folklore vedere un tuo doppelganger non è mai una cosa positiva perché o muori o succede non perché ridete veramente o muori o succedono cose tristi alla tua famiglia ma ti rendi conto ma che cazzo sono questi oh stai lontano da me o intanto voi siete diversi da me quindi potete avvicinarvi però insomma non neanche troppo perché sennò vi picchio con con le svin e flat ecco capito quindi non insomma non scherzate eh vi meno chiaramente non succede mai nella vita sono leggende poi per carità se trovi uno simile a te non è che succede nulla però chissà lo avete mai incontrato voi no e allora non potete sapere lui vi mette il dubbio comunque guardate questo lo riconoscete è gian travolta ma è lui gian travolta o è lui non so cosa pensare guardate questo è un tizio chissà del 1700 800 è uguale a gian travolta è lui palesemente comunque incredibile guardate è uguale però è palesemente c'è una persona del 1700 o gian travolta è un vampiro oppure non è possibile quindi è un è un doppelgang un sose un alter ego non si sa che cos'è però qualcuno di molto simile cosa ne pensi benito se tu trovi uno uguale a te se ne trovo uno uguale a me come ho detto prima e pure io lo meno fortissimo anzi faccio come quelle scene dei film in questa città ci può essere solo un benito damn questa frase potrebbe essere mal interpretata se detta fuori da alcuni contesti ci dissociamo totalmente comunque vedete io appunto pure benito della mia stessa idea a parte a parte le botte passiamo alla prossima foto dunque cameraman scusa allora allora chiediamo le cose scendi qua sotto cameraman noi lo sappiamo che tu sei fan di one piece ma non puoi mettere ogni volta one piece ma benito digli pure tu qualcosa no credo forse forse stavolta porino c'ha un po' di ragione c'è una teoria su questa cosa eh sì ah vabbè sentiamo quale quale allora spiegala tu scusa e sì è one piece vabbè insomma tranquilli questo è l'incontro dei protagonisti di one piece con un personaggio misterioso chissà che vabbè non dico nulla per chi magari non l'ha visto però ecco c'è una teoria su questo uomo incredibile che proprio in questa scena questi due tizia nami non l'aveva capito ma questi due a quanto pare sì dicono qualcosa tipo eh non è lui ma è loro riferito a questo tizio qui e ci sono teorie gente che dice che allora questo blackbeard come lo chiamano è un in realtà c'è dentro di lui altre personalità o meglio altre persone letteralmente e quindi forse potrebbe essere un caso di doppelganger effettivamente potrebbe esserlo non è sicuro potrebbe esserlo cameraman bravo stavolta hai fatto bene però dio avverti prima di mettere foto a caso eh che magari sono spoiler capito capito eh e spoiler di tutto ai nostri followers e poi si incazzano con noi e noi ci pensiamo con detti non ti paghiamo ah ma quello già non lo facciamo e godo vabbè andiamo alla prossima e sei rotto guglielmo mannaggia scusate un attimo lo porto lo porto dal meccanico mi si è rotto il guglielmo mannaggia e ogni tanto i guglielmi si rompono e c'è poco da fare quando quando si trovano davanti insomma chiedo scusa per l'inconveniente fra poco lo aggiusto è attivazione neuroni neuroni non so che dire assurdo fra poco lo aggiustato vai scusate per l'inconveniente scusa scusate mi ero un attimo rotto e guglielmo.exe aveva smesso di funzionare purtroppo ogni tanto il mio sistema va in bug cioè immagina se ero una giraffa vabbè lasciamo stare insomma se ero una giraffa era proprio il massimo fetish per me guglielmo sono io guglielmo sono vabbè sono ancora rotto secondo me benito ma sicuro che non è meglio che la commenti tu sta cosa se lo so che io cosa saresti sei da scoracciare e basta mamma mia possibile che insomma beh effettivamente parla normalmente insomma cerca di essere serio e fare le cose per bene vabbè questo è il lancio comunque quella di dragon ball lei è una doppelgang nel senso di alter ego lei è così tutta bella tranquilla l'acqua e sapone e altre cose la sotto mi dissocio solamente però quando poi guarda un po quando l'acqua e sapone quando stannutisce però quando stannutisce ti punta il ferro perché siamo in una puntata seria e che dovrebbe essere paurosa questo caso forse è poco paurosa me ne rendo conto però è colpa di benito perché e mo che c'entro io sei tu che hai scelto di mettere sta voto scusami e mi pare strano è che mi dice che è colpa mia se ne sei tu che è stata la scelta ecco comunque sono leggermente agitato commentato la prossima cosa immaginate se doveva commentare di nuovo guglielmo questa cosa qui guardate insomma vi lascio solo pensare comunque questa è si chiama proprio sapete come si chiama si chiama doppelgang letteralmente però giustamente questo è un insomma fa parte di un anime che si chiama monster musume dove ci sono un sacco di ragazze mostro e quindi ecco qui questa sarebbe una mummia che si chiama doppelgang e lei si può effettivamente trasformare in qualsiasi aspetto che vuole quindi insomma si può trasformare anche in benito lo so che diventerebbe molto più sexy di quello che è se diventa benito eh lo so chiara chiara capito quindi lei si può trasformare anche in me come come meglio che non si trasformi male maledetto camera lasciamo stare oggi oggi andiamo male ve lo dico vabbè l'avrete già capito oggi andiamo male con me eh sì vabbè dai lo commento io allora sì spiegazione questo qui è un anime ok summer time rendering e letteralmente in questo lo so andiamo sempre a finire a parlare di discorsi di anime allora siamo fatti così letteralmente parla proprio di di questo di doppelganger fondamentalmente anche se nella lore di questo coso si chiamano ombre però le vedete queste cose scure vabbè non è spoiler insomma lo vedete e queste ombre assumono l'aspetto delle persone e sono in tutte e per tutto uguali se non fosse che se tu calpesti la loro ombra calpesti l'ombra delle ombre assurda cosa che non sa come faccio a resistere però l'ombra delle se tu calpesti l'ombra delle ombre loro ci fanno male è solo questo l'unico modo che fai a sapere che sono diversi altrimenti sono perfettamente uguali hanno il carattere i ricordi qualsiasi cosa quindi non li puoi fregare in nessun modo se non appunto calpestandogli l'ombra e un po' come a me quando mi calpesti la coda ma non c'entra nulla ok understandable ok comunque e questo ragazzo ha un potere particolare che gli è stato dato in un modo particolare diciamo che questo ragazzo vuole copiare stans gate in qualche modo e in qualche modo ci riesce in qualche modo no però è molto bello questo anime a parte degli scherzi ve lo consiglio e poi ci mamma mia però allora va bene che se insomma però eh neanche a fa così cioè pure su se si riesce a conterre un pochino eh almeno ehm e però mh dai contenti va c'era pure questo sì esatto diciamo che non è non è proprio doppelganger io lo check out è qualcosa di diverso secondo me non so se si può definire doppelganger aiutami benito diciamo che ecco prima abbiamo parlato cioè hai parlato tu anche di alter ego personalità multiple robe del genere e oppure proprio di persone che sono fisicamente uguali a te ma che non c'entrano nulla che non sono parenti tuoi oppure ancora di persone uguali a te che hanno i tuoi stessi ricordi delle stesse cose quello è un altro caso ancora questo potrebbe essere un quarto caso incredibile di persone che sono e non sono soci sono e non sono doppelganger una sorta di via di mezzo potrebbe potremmo addirittura crearci un come dire una nuova definizione per questa cosa ecco effettivamente sono talmente complicati da spiegare che potrebbe essere una nuova definizione diciamo che vabbè senza entrare negli spoiler perché sennò poi vi lamentate con me non guardate mai l'anime di kaos ed ma neanche per scherzo e giocatevi la visual 9 se proprio volete farlo oggi siamo violenti oggi siamo stranamente violenti vabbè dobbiamo essere più bravi ecco diciamo che dobbiamo essere più bravi e in ogni caso c'entrano i doppelganger diciamo che sono figure molto simili sono di fatto delle cose tra l'altro create volontariamente e involontariamente non è chiaro e sono simili ma neanche troppo e hanno ricordi simili ma neanche troppo non so nemmeno spiegarlo io non so spiegarlo nemmeno facendo spoiler figuriamoci senza fare spoiler come dovrei spiegarlo è una cosa troppo assurda vabbè se vi va giocatevi vabbè sono finite le foto mi immagino quindi andiamo se ne è un'altra eh potevi dirmelo a sorpresa così ma che scusate non capisco non so chi sia comunque credo sia quello di One Piece quello che è un doppelganger lui lo è veramente confirmed non come non come barba nera eeeh ah ok si non me lo stavo ricordando ok si lui è Cavendish che ha due personalità quando è quando è ecco ecco facciamo così quando lui diciamo è sveglio ha questa personalità con l'occhio normale tutto tranquillo insomma tranquillo ogni tanto si incazza quando lui invece che sta dormendo da switch a così personalità super cattiva super killer pazzo pazzoide infatti è diventato famoso per questo altrimenti lui da solo era una mezza pippa eeeh e invece con questo doppelganger è diventato abbastanza forte e da poter competere con alcuni personaggi incredibili eeeh e oggi abbiamo detto poche cose però diciamo che il doppelganger non si può dire più di tanto diciamo e abbiamo detto che secondo alcuni se tu vedi un doppelganger muori secondo alcuni invece se lo vedi semplicemente ti succedono cose brutte insomma diciamo fondamentalmente insomma ci sono diverse teorie diverse cose diverse sus cose eeeh no scherzo non è che non esistono semplicemente ci sono persone uguali a te però alcuni soffrono di disturbo di personalità multipla e quelle cose esistono e in un certo senso quello si può chiamare doppelganger o alter ego o appunto semplicemente disturbo della personalità multipla comunque il fatto sta che sono tutte cose insomma alla fine psicologiche a seconda della psiche di uno può succedere un sacco di cose e magari uno per fuggire da una situazione reale si rifugge in una personalità incredibile che è diversa da lui noi noi non abbiamo personalità triple o multiple vero Guglielmo eeeh poche sappiano però che ne so io che magari la notte mi sveglio e non mi piacciono le giraffe così da un punto all'altro e non mi sembra possibile e appunto quindi direi di no oppure io mi sveglio la mattina senza avere il mio cappello ti immagini non riesco a immaginarlo non tu non cioè come fai a vivere senza il cappello beh appunto assurdo assurdo incredibile eccoci qui incredibile allora spero che il video vi sia piaciuto abbiamo parlato di un sacco di cose non è vero abbiamo parlato di poche cose oggi scusateci però ogni tanto c'è qualche episodio un po' su giù però dobbiamo piano piano parliamo di tutte le cose insomma e nel prossimo episodio insomma parleremo di un'altra cosa interessante esatto esatto insomma alla fine certo questo è l'ultimo episodio della paura fa godo ovviamente quindi non ce ne saranno altri quindi questo è l'ultimo no Guglielmo ma no non è l'ultimo ho appena detto che ce ne sarà un altro ma lo sai sai pure l'argomento perché non esatto esatto questo sarà l'ultimo esatto episodio della paura fa godo è l'ultimo episodio esatto esatto no no allora non sto capendo Guglielmo per favore ma ma ti puoi ma che cazzo mi prego basta episodi vi prego basta episodi ma 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 che cosa sta succedendo noi dovevamo dire dare l'indizio del prossimo episodio no 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 vabbè vabbè non so che dire lo do io l'indizio evidentemente c'ho paura l'indizio è semplicemente una donna che che forse balla chissà mi spiace mi sa che il prossimo episodio lo farò da solo credo di aver capito questa cosa comunque alla prossima ciao ciao addio addio ciao ciao